ciao a tutti ecco il video in cui vi spiego come ho modificato questo alimentatore per ottenere una 12 volt stabile ora vi spiego brevemente qual è il problema questo alimentatore switching vuol dire che questo alimentatore cosa fa prende la 220 che entra qua la raddrizza tramite questo ponte raddrizzatore e questi condensatori qua poi questi integrati che ci sono qua sotto affettano la corrente a una determinata frequenza e tramite questi due trasformatori producono le tensioni di uscita le tensioni di uscita di un alimentatore questo è una vecchia limitatore per pc sono più 5 meno 5 più 12 meno 12 queste sono le tensioni che vengono prodotte questo è un alimentatore a t non c'è la 3,3 perché non è a tx tutte queste funzioni sono fatte da questo chip vedete questo integrato qua è un pvm controller che praticamente vi lascio poi la sigla sotto gestisce tutto il sistema cioè è lui che decide quanta potenza trasferire dalla zona primaria alla secondaria in base alla potenza che lui trasferisce i voltaggi in uscita cambiano quindi cosa fa lui praticamente misura costantemente tramite un sistema di partitori resistivi le tensioni di uscita dell'alimentatore e in base a quello che lui rileva decide quanta potenza trasportare vuol dire che se le tensioni si abbassano perché io sto succhiando tanta potenza quindi ho messo tanto carico lui alza la potenza che trasferisce se invece le tensioni si alzano perché non sto più utilizzando il carico lui riduce la potenza che viene trasferita ecco come viene fatto questo controllo adesso ve lo faccio vedere eccoci qua questo è un simulatore che potete trovare online se mi ricordo vi lascio il link in descrizione e vi sto illustrando come è fatto il circuito del regolatore switching praticamente ci sono queste tre resistenze che sono la r 30 la r 31 e la r 32 che praticamente formano questa specie di partitore di tensione a cui da un lato ci applicata la 5 volt poi vi spiego perché 5 1 dall'altro ci applicata la 12 cioè queste sono proprio le tensioni che arrivano direttamente dai cavi di alimentazione dell'alimentatore quindi cavo giallo per la 12 volte cavo rosso per la 51 qua queste resistenze creano questa rete di partizione che crea una tensione di 2,5 volte ok questa tensione entra nell'integrato il pvm controller che la confronta con a 2,5 che lui è di riferimento questa è fissa della genera da solo quindi non cambia mai in base alla differenza tra queste due decide che cosa deve fare in questo caso la differenza è praticamente zero quindi l'integrato sa che la potenza che lui sta trasferendo da primario ai secondari è corretta e quindi non deve variare la potenza trasferita ora ammettiamo che qualcuno applichi un carico alla 5,1 volt il carico fa abbassare la tensione perché tira troppa corrente e mettiamo che la tensione scenda a 4,12 vediamo cosa succede vedete che adesso la tensione prodotta dal partitore non più 2,5 ma è 2,08 questo fa sì che il confronto ottenga una io ho messo meno 1 volt poi internamente non so quale sia quella corretta del dell'integrato comunque questo segno negativo e sta dicendo al controller guarda che l'uscita è bassa quindi lui aumenta la potenza praticamente aumenta il duty cycle degli impulsi che lui manda per trasferire energia dal primario secondario dei trasformatori aumenta la potenza per compensare quindi lui cosa farà aumenta la potenza il problema è che essendoci un unico punto di controllo di trasferimento scusate della potenza questo farà aumentare sia la potenza trasferita qui ma anche quella trasferita qua questo vuol dire che io vedrò salire sia la 12 volt sia la 5 la 5 va bene perché è 4 e 1 devo riportarla a 5 ma se la 12 sale il rischio è che si arrivi a 13 14 questo è un problema noto come come spiegavo prima come cross load negli alimentatori soprattutto quelli molto vecchi ma anche in alcuni cinesate che trovate in giro quindi rimettiamo la quel sistema in equilibrio adesso voglio far vedere una cosa avete visto che qua è passato subito a 2,08 ora proviamo a fare la stessa cosa a 12 volta anzi in realtà gli dico la faccio scendere due volte non di uno cosa notate queste 2,4 43 vuol dire che le regolazioni le variazioni sulla 12 volte hanno una minore sensibilità su questa tensione e infatti qui vedete che la regola il risultato è un meno 0 6 sì che dice al contrario di aumentare la potenza ma non più di tanto quindi vuol dire che questa rete è stata pensata per gestire molto in maniera più selettiva la corrente che la tensione del 5 volte rispetto a quella del 12 infatti il mio problema grosso che avevo era che tirando corrente dal 12 volta vedevo la 5 salire ma questa no giusto per farvi capire io qui avevo tipo 9 volte qualcosa del genere e la 5 era tipo che ne so proviamo a fare 5,5 vediamo cosa succede ecco vedete che già con questa configurazione 9 volte 5,5 qua la tensione è già buona anzi qua gli sta dicendo abbassa la potenza perché ne stai mandando troppa quindi con l'autoradio che tira tantissimo solo 12 volt e praticamente nullo il consumo sulla 5 mi ritrovo in questa condizione qua di avere la tensione molto bassa tant'è che neanche la ventola dell'alimentatore che va 12 volte riusciva a muoversi si muoveva pienissimo e questo è il problema per cui l'alimentatore non andava bene quindi cosa ho fatto rimettiamo le cose a posto quello che ho fatto sostanzialmente è stato prendere la r30 questa qui da 6 3k e staccarla notate cosa succede staccandola e basta di colpo qua la tensione è crollata e qua gli sta dicendo aumenta la potenza perché siamo in negativo e quindi il problema è che l'alimentatore così facendo continua a salire di potenza tant'è che qua invece di 12 leggevo 24 volte adesso io vi metto 24 volte che è il massimo che lui può trasferire di potenza e anche con 24 volte qua non riesco a ottenere 2 e mezzo la ripartizione della tensione è sempre troppo bassa quindi per mettere le cose a posto oltre a staccare questa resistenza qua ho dovuto cambiare questa qui ho dovuto ricalcolare il nuovo valore il nuovo valore si calcola con la tensione che è 12 volte moltiplicato 4 e 7 più la somma delle due bisogna ribaltare la formula comunque per farla breve io qua ci ho messo 18k ok notate che con 18k qua siamo a 2,4 il che vuol dire che la 12 salirà leggermente quindi cambiando questa resistenza lasciando questa invariata di fatto io ho ottenuto un nuovo partitore che mi consente di ottenere la 2 e mezzo a questo punto qualsiasi variazione subisca la 12 volt il controller interviene immediatamente perché adesso è l'unica cosa che dà un riferimento di potenza e quindi la 12 volt rimane stabile qual è il problema di questa regolazione? ovviamente è che la 5 non essendo più controllata dal controller essendo libera di variare di fatto sale tant'è che nel mio caso specifico la 5 volt arrivava a 6 e mezzo però visto che la 5 volt del mio impianto deve gestire soltanto il modulo bluetooth che consuma molto poco mi conveniva di più mettere un piccolo regolatore che da 6 e mezzo la riporta a 5 piuttosto che stare a fare altre modifiche qui anche perché comunque avere questa gestione delle due tensioni insieme nel mio caso specifico non è particolarmente conveniente ragion per cui la modifica la finestra questa quindi eliminata la R30 che non c'è più nel circuito sostituita la R31 che era da 82k con una da 18k e questo è tutto per la parte di regolazione adesso che abbiamo visto la spiegazione tecnica vediamo come è stata fatta ecco qua vedete la resistenza che è stata tolta quella mancante e la resistenza che è stata sostituita quella di 18k l'ho dovuta montare così perché purtroppo una resistenza di recupero non ne avevo da 18k e aveva un terminale più corto quindi ho dovuto saldarla in questo modo stupido comunque fa il suo lavoro anche la potenza è più grossa ma tanto non importa perché le correnti sul partitore sono molto piccole quindi anche di potenza piccola sarebbe andata bene lo stesso ripeto questa avevo bene con questa modifica praticamente la 12 volt è stabile fissa indipendentemente da quanto io posso assorbire tramite l'autoradio per sistemare la 5 volt ho aggiunto questo piccolo questo qua questo questo piccolo regolatore di tensione su cui poi farò un altro video per spiegare come funziona comunque come vedete ha pochissimi componenti è molto semplice la 5 volt arriva tramite questi due fili che provengono dall'interruttore viene regolata a 5 e poi raggiunge il modulo bluetooth questo è tutto spero che il video vi sia stato utile per fare eventualmente le modifiche ai vostri alimentatori se li volete usare per queste cose ciao a tutti e buona giornata grazie a tutti